Grazie a tutti No, questo è quell'altro No, è uguale Sì, è sempre Sartburger e Hamburger Solamente che hai girato dall'altra parte Sì Guarda qua Porca la madonna Ma cosa è la roba lì rossa che hai in mezzo? È la livella, lo giro la parte Allora, Herren Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni, vieni 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 Sembriamo dei bambini Dai, porca traia Ok, chiaro, vuoi andare? Due, due, due Aspetta, aspetta Sì, sì, tra Aspetta, quanti? Due 22 Hai acceso il video? Sì Accendi Vai Madonna, che stretti che siamo, porco Che tipo è questo, Gigi? Salzburger Hamburger È bello? No, è una marca generica No, non è un po' di paese Ah, non è un po' di paese No, non è un po' di paese Grazie.